Ciao a tutti, oggi di che parliamo? Oggi voglio tornare sull'argomento della rigenerazione degli scambiatori di calore a piastre. Argomento affrontato con un precedente video e qualcuno mi ha giustamente chiesto, ma quando faccio manutenzione su uno scambiatore a piastre, è necessario ogni volta sostituire tutte le guarnizioni? Bella domanda. Ni! Alcune volte sì, alcune volte no. Dipende molto dal tipo di applicazione. Dividiamo in due categorie l'intervento. Se lo scambiatore è uno scambiatore caldo che lavora con vapore, ad esempio, quasi sicuramente avrà delle guarnizioni in etilenpropilene, in epidm, per alta temperatura. E queste guarnizioni saranno state stressate dal vapore ad alta temperatura in modo importante. Di conseguenza, quando vado a smontare lo scambiatore, cambio tutte le guarnizioni. Anche perché nel momento in cui lo apro mi rendo conto che le guarnizioni sono stressate. L'epidm presenta un ritorno elastico, quindi un'elasticità inferiore rispetto al classico nitrile o al Vyton. Di conseguenza, dopo magari due o tre anni di esercizio, non ha più il recupero elastico di una guarnizione nuova. E quindi, dopo aver lavato le piastre, vado a rimontare lo scambiatore, quasi sicuramente perde. Perciò cambio tutte le guarnizioni. Diverso è il discorso se è uno scambiatore che dopo due, tre, quattro anni di funzionamento con acqua fredda da una torre di raffreddamento, magari a 30 gradi, o da un gruppo frigorifero, presenta le piastre sporche, faccio il lavaggio delle piastre, ma quando lo smonto mi rendo conto che magari le guarnizioni sono ancora come nuove. Di conseguenza, soprattutto quando parliamo di guarnizioni clip, quindi senza colla, è molto probabile che io possa recuperarle e riutilizzarle. Dopodiché, onestamente, vige un po' il buonsenso anche in queste operazioni. Se sto aprendo uno scambiatore con 200 piastre, ogni piastra da 0,4 metri quadri, quindi un bestione, bocchelli da 100, da 150, dove faccio manutenzione dopo quattro anni di esercizio, il costo di questo intervento è un costo importante. Quanto incide cambiare le guarnizioni? Sicuramente ha la sua incidenza, però ammettiamo il caso che vado a richiudere lo scambiatore e mi perdo una guarnizione, o due, o dopo sei mesi cominciano a perdere e devo rifare tutta l'operazione di sezionare lo scambiatore dall'impianto, scollegarlo, smontare le piastre, cercare la guarnizione che perde, sostituirla. A quel punto, probabilmente, se durante la fase di rigenerazione ho sostituito le guarnizioni, diciamo così che ho fatto un buon investimento. Il suggerimento è quello di lasciar dare un occhio agli esperti, ovvero quando andiamo ad aprire lo scambiatore, solitamente noi agiamo in questa maniera. Nella proposta dell'elaborazione viene incluso il costo delle guarnizioni, magari con un prezzo splittato. Quando andiamo ad aprirlo, chiamiamo il cliente e diciamo, sì, guarda, ti conviene cambiarlo, oppure le guarnizioni sono ancora buone e ti garantiamo che puoi andare avanti ancora per un altro ciclo di elaborazione. Ho chiarito il dubbio? Spero di sì. Buona giornata! Ciao!